buongiorno oggi parliamo di attività o un quarto d'ora di anticipo anche perché abbiamo un po di cose da dirvi ma oggi vogliamo parlarvi di un'attività ti interessa acquistare un'attività che rende 100 mila euro all'anno dati reali da poter controllare con il vostro commercialista e andiamo a parlare di che tra l'altro 100 mila euro all'anno mi sembra che diviso 12 faccia 8.333 euro al mese e sembrerebbe non essere possibile scusate che spengo un attimo di qua perché nella nostra cabina di controllo ecco così tanto controllo anche qui quello che sta capitando così andiamo a vedere bene perché sono solo in quanto mio figlio Nicolò è a casa che studia 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 perché il 14 ha l'esame definitivo per essere abilitato a questa professione straordinaria che è quella della gente immobiliare allora parliamo di un'attività che rende 100 mila euro all'anno è un'attività difficile è un qualche cosa di cosa devo fare per guadagnare 100 mila euro all'anno segui questa diretta che ti parleremo di un'attività che ha 51 anni di storia e che adesso per motivi che ti andrò a spiegare viene ceduta ma tu hai la possibilità domani mattina di entrare all'interno di questa attività e sai che hai un reddito definito di 100 mila euro all'anno che potrà solo migliorare ma andiamo a vedere di cosa si tratta però prima di questo volevo ringraziare le officine Nicolazzi che sono un nostro partner che sono eccole qua officine Nicolazzi rubinetteria straordinaria che parte dall'Italia signori e va in tutto il mondo l'officina Nicolazzi veramente sono un'eccellenza italiana che porta il made in Italy nel mondo e sono dei nostri partner li voglio ringraziare tra l'altro nuovo new entry che ancora non ve ne ho parlato ma a breve la andremo intervistare la ditta 17 profumatori per gli ambienti creme tutto con prodotti altamente selezionati a breve faremo anche un'intervista a questa signora che ha un cognome strano ma è una tipa molto molto dinamica per cui ringraziamo la new entry 17 ecco qua e poi a breve ne parleremo parleremo di questi prodotti straordinari che l'alessia della 17 sta portando avanti partendo qui da biella ma andiamo senza indugi adesso a parlare di questa attività vi ho detto se vi interessa se il vostro intento scusate non può dire uccidine sto benissimo se il vostro intento è acquistare un'attività che produca del denaro immediatamente non dovete aprire un'attività e sperare fare tutta una campagna marketing investire un mare di soldi perché la gente vi conosca poi non sapete come va il mercato no qui abbiamo l'opportunità di offrirvi un'attività che ha 51 anni di storia dovete tirare su la clare e lavorare ingrediente determinante quando si comprano le attività è avere voglia di lavorare perché mia nonna mi diceva dal nulla non arriva non arriva mai nulla ci vuole sempre dell'impegno ma andiamo a vedere di cosa vi parliamo oggi prima di tutto biellese territorio straordinario questo video poi girerà per l'italia e quindi se non conoscete biellese date di un'occhiata guardate che opportunità abbiamo oggi perché è qualche cosa di estremamente interessante stiamo parlando di una storica tabaccheria che è messa a biella in piazza adua piazza adua oltretutto è un centro nevragico della nostra città che è popolata di belle attività che adesso vi vado a presentare alto reddito dimostrabile vi farò poi vedere noi abbiamo un agio di 100 mila euro all'anno è un dato che lì è 2 più 2 e fa 4 di lì non vi potete sbagliare andiamo a vedere un attimino l'attività di cui vi parlo è stata avviata nel 1970 quindi come vi dicevo qualche anno di storia ce l'ha questa è piazza adua e la tabaccheria è quella che vedete lì al centro piazza adua come mi sono come ho già detto mi ripeto è veramente un centro nevragico di biella arrivando biella voi arrivate in piazza adua tra l'altro è comoda anche al parcheggio oggi vi stiamo proponendo di diventare imprenditori di voi stessi comperando una tabaccheria lavorando in assoluta autonomia e portando a casa un reddito veramente importante tanto stanno scorrendo delle immagini di piazza acqua e andiamo a vedere l'ideale questa attività è l'ideale per due persone marito e moglie sarebbe fantastica due amici avete un figlio una sorella un fratello che vuole prendere l'attività con voi perché ha degli orari di apertura che poi andremo a vedere che sono abbastanza importanti l'ideale che ci siano due persone perché con due persone vi potete togliere il tempo che volete da dedicare a voi stessi e portare avanti questa attività in assoluta autonomia diventando imprenditori di voi stessi questi sono i locali dove viene esercitata da 51 anni questa attività e oggi veramente vi stiamo dando la possibilità di produrvi un reddito in assoluta autonomia con un lavoro che è bellissimo perché siete a contatto con la clientela quotidianamente in un angolino di biella dove le sinergie ma dopo vi farò vedere con le altre attività sono veramente molto importanti nella tabaccheria cosa abbiamo tabacchi valori bollati pagamento delle utenze i bolli delle auto il super ennalotto la sisal le carte telefoniche e mille altre cose che sono all'interno la proprietaria alla fine di questa presentazione poi metteremo il link potete vedere il video perché abbiamo fatto anche un'intervista barbara quindi conoscerete anche barbara che è la titolare lei vi darà tutto il periodo di affiancamento che vi sarà necessario affinché voi siate capaci di camminare con le vostre gambe non è una cosa molto complicata però bisogna avere delle conoscenze delle capacità e barbara è in grado di trasmettervi tutto questo attualmente la tabaccheria ha un orario di apertura dalle 7 di mattina alle 12 e 30 poi chiude nella pausa pranzo ma questa è una scelta loro perché poi è scelta di chi eserciterà questa attività scusatemi ecco un po di un po di raffreddore questa è raffreddore state tranquilli non sono conteggioso un po di raffreddore la stagione e poi le riapre alle due del pomeriggio per chiudere alle sette e mezza di sera gli orari le decidete voi barbara ha deciso per questo orario che trova il più consono poi lì ognuno in assoluta autonomia la richiesta la richiesta signori è da non credere e seguite la questa diretta e vi diremo tutto passo passo ma cosa capita signori essere liberi investendo in un'attività redditizia che ha 51 anni di storia oggi quello che vi stiamo proponendo è questo e il tutto lo potete fare in solo due passi il primo è venire a vedere non credere a nulla di quello che vi sto dicendo se fate il primo passo inevitabilmente farete il secondo che sarà quello di chiamare il vostro commercialista e di portare avanti questa trattativa ecco qua nel qui siamo con dei personaggi di piazza adua questa foto tra l'altro l'ho trovata in google e nel video che abbiamo girato per la per lanciare questa attività conoscerete bubu che è il titolare del bar bistro un'eccellenza di piazza adua di biella che è messa proprio lì al fianco della tabaccheria dall'altro lato abbiamo la farmacia abbiamo la macelleria meglio che andare in farmacia abbiamo la macelleria zanone altra eccellenza storica della della piazza ma sempre sulla piazza al fianco della tabaccheria abbiamo una pizzeria ristorante positano sul fronte abbiamo l'hotel michelangelo c'è un'edicola e un insieme di altri negozi per cui veramente un centro nevralgico tra l'altro comodo per il parcheggio veloce e l'accesso alla tabaccheria nella foto di sinistra la prima che apparsa nella parte di destra ecco qua vi presento barbara barbara è lei la tabaccheria era già dei suoi genitori adesso per altri motivi familiari hanno deciso di cedere dopo 51 anni di storia a questa attività la tabaccheria signori è questa la richiesta richiesta è di 239 mila euro ma a questo punto uno si dice sì ma e quanto rende e ve l'ho già detto abbiamo un viaggio abbiamo 100 mila euro all'anno allora questo punto la domanda della faccio io quale attività oggi pensate di poter avviare con tutti i sacrifici che ci sono e le incogniche che abbiamo che che reputate possa rendere 100 mila euro all'anno io penso siano veramente veramente poche abbiamo fatto tramite mattia bottosteglia che poi voglio presentare abbiamo fatto un calcolo di fare un mutuo in 20 anni per fare un mutuo sì se avete il vostro capitale a disposizione bene altrimenti lo possiamo mutuare abbiamo calcolato di mettere a garanzia un immobile avendo garanzia di un immobile sui 239 mila euro possiamo calcolare un 80 per cento di finanziamento quindi 190 mila euro calcolando che non stiamo mutuando l'immobile ma che comunque è legata all'attività siamo andati col tasso peggiore che potevamo trovare in mercato che il 2,50 quindi se calcolate di mutuare questo acquisto garantendolo con un immobile avrete una rata mese di 1.700 euro su un'entrata al mese che è lì da vedere inoppugnabile di 8.333 euro al mese di entrate per cui avete un apporto personale di 49 mila euro allora per chi non ci conoscesse signori ci presentiamo in un attimo la vendi che ufficio locazioni nicolò che sta per dare l'esame quindi abilitato la professione paolo che ci segue sui social marco che il nostro assicuratore ed ecco mattia mattia dottor mattia bottosteglia con lui stiamo collaborando tantissimo anche sulle attività e con lui che abbiamo visto il mutuo di cui vi ho parlato prima enrica che è il nostro avvocato filippo il nostro commercialista stefano che è il nostro geometra e questo sono io signori il biellese è un territorio straordinario non solo per comprare immobili ma anche per venire a mettere la vostra attività per spostare la vostra vita forse da queste grandi città in un angolino di mondo che è delizioso che è il nostro biellese che è un territorio magico signori veramente magico se non lo conoscete se non conoscete il biellese fermatevi un attimo vi voglio far vedere alcune particolarità del nostro territorio per chi il biellese lo conosce la presentazione dell'attività di oggi si ferma qua come vi dicevo 239 mila euro per una tabaccheria che ha 51 anni di storia rende 100 mila euro all'anno e tutto lì dimostrabile voi telefonatemi alla fine di questa presentazione ci sarà il link per cui potrete vedere anche il video e parleremo con barbara per chi non conosce il biellese fermatevi un attimo che vi faccio vedere alcune particolarità del biellese innanzitutto dalla barriera di milano noi siamo 55 minuti in 30 minuti da biella siete all'ingresso della valle d'aosta e di lì avete delle meraviglie da vedere da sognarci siamo 45 minuti dalla barriera di torino in 90 minuti signori noi arriviamo genova la posizione del biellese oltre vedete vedete che quadro che montagna abbiamo nel biellese adesso che sono innevate sono qualcosa di straordinario ma andiamo a vedere alcune cose del biellese innanzitutto le nostre montagne che sono montagne da vivere per quattro stagioni all'anno il ricetto di candelo che qualcosa di straordinario un borgo fortificato dell'anno mille il santuario di europa il lago di viverone siamo un quarto d'ora da biella la parte alta di biella che è il piazzo in bicicletta signori voi uscite dalla vostra tabaccheria che avete comperato da noi dall'abita nei momenti nei momenti in cui siete tranquilli prende la vostra bicicletta potete pedalare guardate in che zone meravigliose sempre nel biellese un quarto d'ora da biella abbiamo uno dei campi da golf più belli d'europa che il campo da golf le betulle se amate l'equitazione qui i centri equitazionali sono infiniti passeggiate da fare nella natura degne da laguna blu il parco naturale della bessa dove abbiamo una piramide andate a vedere che cos'è rosazza che è stata definita la renda chateau italiana se poi siete dei biker nel biellese vi perdete in moto in panorami che saranno indimenticabili non credete a nulla ma andate a vedere il parco naturale della varaggia o andate a vedere che cos'è l'oasi zenia ma il biellese signori che non tutti lo sanno e questo mi fa particolarmente piacere perché alle volte poi questa mattina signori mi telefono un avvocato da genova che ha visto i nostri video adesso breve verrà a vedere una nostra proprietà seguendo i video che facciamo le nostre presentazioni mi dice ma io tante cose del biellese benché ci vengo spesso non le conoscevo non le sapevo fate bene a fare queste presentazioni lui si è informato adesso in settimana ce l'avremo bielle speriamo di avere un biellese in più tra di noi nel biellese signori vi dicevo abbiamo delle eccellenze straordinarie come piacenza ermene gildo zegna si sono biellesi cerruti la menabrea questa birra fantastica e qua e qua è di biella loro piana signori la bancasella l'acqua lauretana perché nel biellese oltre avere un'aria fantastica abbiamo un'acqua che straordinaria andate a vedere l'acqua lauretana tra le più leggera il mondo ma una cosa che è importantissima per le famiglie signori siamo un polo di eccellenza nella didattica innovativa prendete in considerazione il biellese prendete in considerazione questa attività perché presa l'attività sono quasi certo che poi vi venderò anche una casa per chi non ci conosce vuole vedere quello che facciamo su questi canali abitabiella agenzia immobiliare sempre su questo canale silvio zupichiatti anche su instagram ci trovate con questi con questa parte qua biellese territorio straordinario che una nostra community abbiamo iniziato nei nostri video che abbiamo lanciato dal 2018 dire biellese territorio straordinario ed è diventata una community che abbiamo creato e lanciato in rete studio associato moving real estate siamo sempre noi su youtube ci potete trovare come abitabiella agenzia immobiliare iscrivetevi al canale e se vi iscrivete al canale sarete tempestivamente avvisati di tutte le nostre proposte immobiliari e lavorative il lavoro signori che in questo momento vediamo è così precario non si sa oggi vi stiamo proponendo di diventare imprenditori di voi stessi con un'attività che dovete soltanto tirare sulla claire e aver voglia di lavorare i corsi che abbiamo fatto tra un attimo ve ne voglio parlare anche perché abbiamo lanciato un corso in rete siamo particolarmente contenti perché ogni giorno vediamo che questo corso viene acquistato e poi ve ne parlo le interviste che abbiamo fatto ecco tra poco andremo di nuovo intervistare questo personaggio sedenti profumi per ambiente creme particolari ne parleremo anche con lei le opere di restauro e le costruzioni al nuovo potete trovare tutto ci potete trovare sul nostro sito che www abitabiella.it siamo particolarmente contenti del del nostro sito perché l'abbiamo dovuto ricreare da capo in quanto ad oggi abbiamo girato più di 400 video per cui abbiamo creato un sito che tutto impostato sui video se vuoi vendere se vuoi comprare i video stanno diventando di vitale importanza pensate che con i nostri video siamo arrivati in cina abbiamo portato a viella vi racconto questa cosa un imprenditore che dalla cina parte viene a viella arriva spostiamo continuamente gli appuntamenti perché non aveva mai tempo arriva con un mese di ritardo mi dice scusami ho dovuto aprire inaugurare il mio ultimo giocattolino di famiglia un albergo in vietnam che ha 2.500 stanze 5.000 metri quadrati di casino però dalla cina i nostri video sono arrivati lì e questo signore è venuto a viella fantastico ma siamo arrivati in america in costa rica siamo poi anche diventati amici con il mio amico francisco che parte dal costa rica perché vede in costa rica i nostri video e viene per comprare casa nel nostro biellese che un territorio straordinario ma arriviamo in tutta europa e copriamo tutta l'italia queste signori è la nostra sede voi arrivate qui in macchina abbiamo un parcheggio privato all'interno nostro per cui lasciate la macchina lì siete tranquilli al resto ci pensiamo noi e noi signori siamo qua da 36 anni io sono 46 anni che mi occupo del settore immobiliare il biellese signori il biellese adesso che vediamo ste palestre ci posso entrare non ci posso entrare ci vuole il green pass forse non ho quello giusto guardate le palestre gratuite signori che noi abbiamo nel biellese ma tutto questo perché perché il biellese com'è che ho scritto lì biellese territorio straordinario quando avete chiuso la vostra tabaccheria venite con me io tante volte nell'ora del pranzo non mangio mi prendo il mio zainetto e vado in queste palestre stupende immerso nella natura in un panorama che è fantastico perché il biellese degli scorci incredibili faccio la mia ora o due ore di ginnastica all'aria aperta e poi ritorno con gioia al mio lavoro una piccola marchetta che voglio fare quello che stiamo lanciando che abbiamo lanciato in rete che vediamo che ogni giorno viene acquistato guardate pensate che il momento di mettere il vostro denaro al sicuro di proteggerlo io dico di sì e pensate che lasciandolo in banca lo avete protetto forse non è così potete fare delle operazioni immobiliari piccole su questo proposito abbiamo lanciato appunto questo corso che lo potete trovare tramite il nostro sito che è diviso in dieci moduli dove andiamo passo a passo a spiegare tutte le dinamiche per prendere il denaro metterlo a reddito facendo delle operazioni immobiliari ma soprattutto creando del denaro etico che rimane sul territorio beneficio di una collettività denaro etico signori non il denaro delle multinazionali che viene rastrellato e portato via denaro che ricade a beneficio di un territorio ma perché abbiamo fatto questo perché vi ho detto sono trentasei anni che io faccio questo lavoro i dieci anni prima lavoravo in cantiere con mio padre costruivamo case quindi tutta la vita nel settore immobiliare mettendo frutto questa esperienza che non è nata leggendo dei libri seguendo dei webinar vedendo chi fa dei video mettendo in campo questa esperienza di vita è capitato che abbiamo creato degli eventi abbiamo creato dei corsi siamo stati chiamati come relatori a delle serate siamo andati ad imparare dai migliori siamo andati da alfio bardolla che è un grande nel settore immobiliare quindi imparare nella vita non si finisce mai per me sono 46 anni quest'anno che faccio questo mestiere ma ho sempre tutto da imparare abbiamo abbiamo inaugurato la nostra nuova sede nel luglio del 19 a febbraio del 20 abbiamo fatto un corso un full immersion nel del settore immobiliare che è partito alle nove e mezza di mattina abbiamo finito alle 7 di sera abbiamo avuto 10 relatori con noi e 50 partecipanti è stato bellissimo abbiamo creato delle serate una serata molto bella relè santo stefano dove abbiamo avuto 200 partecipanti il tema era sempre il settore immobiliare come investire il nostro denaro e metterlo a reddito creando sempre signori questo va detto del denaro etico che rimane su un territorio beneficio di una collettività abbiamo creato tante altre sere dove il tema era sempre come investire il denaro nel settore immobiliare sulla scorta di tutto questo ecco che alla fine poi scrivo un libro che è il diario di un uomo libero 43 anni di esperienza errori oggi sono 46 anni e sulla base di questo libro e per via del covi che c'è un po' piegato le ali perché eravamo pronti per andare a milano saremmo poi andati a bologna a portare questo corso itinerante non era possibile signori per cui l'abbiamo lanciato in rete come vi ho detto sono dal nostro sito potete collegarmi tutto collegato una piattaforma io ci capisco ben poco perché paolo che segue tutta sta parte qua il corso costa 179 euro è stato lanciato in promozione a 10 euro che è veramente poco adesso mi pare sia a 80 euro perché ancora in fase promozionale però vedo che tutti i giorni ne stiamo vendendo di questo sono molto felice perché il nostro obiettivo non era quello di vendere il corso ma era veramente di creare come ho scritto nel mio libro un mondo di uomini liberi nel corso che è diviso in dieci moduli sono molte ore di corso però abbiamo sviscerato ogni dinamica affinché voi possiate prendere il vostro denaro e metterlo in mattoni che sono delle certezze eclatanti e indiscutibili detto tutto ciò signori ritorniamo solo un attimo alla tabaccheria oggi con 239 mila euro vi abbiamo proposto un'attività che ha 100 mila euro all'anno di agio quale altra attività quale attività pensate di poter aprire oggi con tutto quello che dovete investire per poter avere un reddito certo qui il reddito è certo signori non credete a nulla di quello che ho detto sono passano i nostri numeri se avete delle perplessità chiamateci risponderemo tutti volete venire a vedere la tabaccheria non dovete fare altro che alzarvi il telefono chiamarmi vi fissa un appuntamento e vi garantisco che lì avete un'attività che tirata sulla clan dovete solo avere una cosa che è determinante e che ultimamente credetemi non è poi così facile da trovare perché a parole tutti poi quando è ora bisogna aver voglia di lavorare biellese territorio straordinario noi vi abita signori siamo sempre in movimento che la luce sia con voi spero di vedervi presto buona giornata